Allora, eccoci con Luca Bultrini, capitano del Qatar. Senti, prestazione incredibile, una rimonta da 2-0 a 3-2. Commento sulla gara. Buona prestazione, ci abbiamo messo il cuore, abbiamo cambiato qualcosina nel secondo tempo e siamo saliti, siamo saliti, eravamo più coperti a centro campo. Beh, contropiedi, sempre decisivi sotto la porta. Bravissimi anche loro, comunque, perché è una squadra molto fisica. Però un grande applauso a noi per questa prima vittoria. Questo è vero, può essere che questa vittoria vi lancia un pochino, cioè vi dà finalmente un po' più di sicurezza e tranquillità. Motivazione, una motivazione in più magari, quella che avevamo perso o magari avevamo solo nella testa e mai espresso veramente in campo. Anche se io piano piano avevo visto dei miglioramenti e oggi finalmente c'è stato il... Vero, veramente, siamo migliorati sempre di più dalla terza gara in poi. E oggi finalmente un premio a noi. Ancora bravo e un boccato alla prossima. Grazie.